Quindi non cerca un posto fisso? Forse. Altrimenti che ne sarebbe delle prospettive. Niente figli per un po', vero? No, niente figli. Che c'è di così speciale? Penso di essere figlia di mia zia, credo che mia zia sia la mia vera madre. Avrai un ufficio tutto per te e ci controllerai tutte. Ci scoccia? O adesso o mai più. Non dovrete parlare troppo durante un colloquio. Ma le piace il suo lavoro di rappresentante? Mi piace guidare. Chi manderà avanti la baracca è la prima donna, primo ministro. Sei una di quelle rompiballe, rompiballe, sono intelligente. Non è intelligente come te. Io non sono intelligente, io spingo. Vorrei fare un brindisi alla vostra saluta. Abbiamo fatto tutte parecchia strada. Al nostro coraggio e a come abbiamo cambiato le nostre vite. Ai nostri straordinari successi! Grazie! Grazie a tutti.